Fedez, brutte notizie e serie preoccupazioni sui suoi problemi di salute. La salute di Fedez è al centro delle attenzioni dei fan e non senza motivo. Dopo il suo recente ricovero che ha destato preoccupazione, nuove indiscrezioni suggeriscono un ritorno in sala operatoria. Qualche giorno fa il rapper è stato ricoverato d'urgenza al Fatebene Fratelli Sacco di Milano a causa di un'ulcera complicata. Ha rassicurato i fan ringraziando per il sostegno ma la situazione non sembra risolta. Nelle ultime ore le preoccupazioni sono tornate a galla. Si dice che Fedez sia di nuovo all'ospedale a seguito di un improvviso sanguinamento richiedendo un intervento chirurgico urgente e un'altra trasfusione. Questi episodi di salute complicati seguono la scoperta di due ulcere giovedì scorso indicando che il problema potrebbe essere più serio del previsto. La moglie Chiara Ferragni è al suo fianco in ospedale, tornata d'urgenza da Parigi per stare con lui. I fan sono in ansia nonostante i tentativi di rassicurazione da parte di Fedez e Chiara. Presto ci saranno aggiornamenti sulla sua salute. In queste circostanze difficili il papà di Fedez dice dobbiamo essere forti per lui, mentre la madre aggiunge sta un po' meglio così così. E mentre si discute sulla decisione della Rai di aver cancellato la partecipazione di Fedez a Belve, ciò che appare più urgente adesso è la sua salute e solo il tempo dirà come si evolverà la sua situazione. Grazie per la visione, facci sapere cosa ne pensi nei commenti, se ti è piaciuto lascia un like e ricordati di iscriverti al canale per supportarci. Al prossimo video!